ultimamente il numero ancora inesauribile l'infida ma che la compagnia è diversa però ah si è fuori scherotto ancora lui sulla destra scherotto, un punto bizarro una volta scherotto mette un po' in mezzo proprio su una situazione che mi è scelto davvero le ultime le ultime non erano arrivati la sede della trampa le possibili compagazioni i fratelli che hanno domani per decidere per quanto riguarda il nostro compagno è vero si finisce qui 3 a 1 per la Roma che la notte segna le stesse volte ha fatto le 4 partite precedenti in questa parte conquista il primo successo che sarebbe nella sua gestione della partita giocata inizio del campionato ma questa di Benedetto non ci dobbiamo il suo spazio è vero il suo spazio è vero il suo spazio la migliore opel di sempre E poi tu mi hai chiesto l'ultima un Campari-Solta. Campari-Solta, piacere di conoscersi. rotto, vai bene... Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.